Allo sport partiamo dalla pallavolo con l'esordio della Sir Susa Perugia nei playoff per il quinto posto. I Block Devils hanno battuto Monza 3-0 in trasferta dopo la cocente delusione dell'eliminazione dalla corsa a Scudetto, una vittoria che serve a risollevare il morale. Ascoltiamo allora le voci dei protagonisti. Sappiamo di non aver fatto bene nell'ultima parte della stagione, ma nello stesso tempo siamo concentrati, responsabili e attenti al nostro livello di gioco. Abbiamo finalmente rotto il ghiaccio con le vittorie, siamo tornati alla vittoria, sono felici per i ragazzi e adesso partita dopo partita cercheremo di elevare il nostro livello di rendimento. Sono contento per la vittoria ma faccio ancora un po' fatica a parlare, c'era da rispettare questa maglia, i tifosi che sicuramente ci hanno seguito da casa, c'era da fare questo soprattutto. Adesso dovremo stare concentrati, vedere i ragazzi come stanno perché giochiamo subito sabato e poi martedì abbiamo due partite in 5-6 giorni, quindi non abbiamo molto tempo né per lavorare né per recuperare. Dobbiamo stare concentrati, questa è la cosa principale.